Vorrei restare per un po' a New York. Il tuo lavoro all'università. Non voglio più analizzare il lavoro degli altri, Carly. Io voglio scrivere. Che ne pensi di un'agenzia letteraria? Fantastico. Ma sai utilizzare una macchina da scrivere? È molto diverso scrivere con uno di quei computer. Le ho viste in azione e creano complicazioni per tutti. Tu hai pubblicato poesie? Sì. Questo non dirlo. Gli scrittori sono i peggiori assistenti. Mettiti al lavoro. Per caso scrivi anche tu? Joanne è la mia assistente. Io non assumo scrittori. Indovinate chi rappresentiamo? Amy Wade. Il Papa. Charles Bukowski. J.D. Salinger. Non ci credo. Salinger. Avrai sentito dire che è pazzo. Non è lui il problema, ma le persone che chiedono il suo indirizzo, il telefono. Caro signor Salinger, ho letto il suo libro Il Giovane Holden tre volte. Mio Dio, sono veramente un mucchio di pazzi ossessivi. La posta degli ammiratori di Salinger. Devi distruggerle tutte. Quindi Salinger non riceve le sue lettere? Neanche una. Hai mandato la mia lettera a Salinger? Hai mandato la mia lettera a Salinger? Non avete diritto di tenere la mia lettera! Ma è assurdo. Risponderò io alle sue lettere. Tu dici sempre che vuoi scrivere, ma lavori fino a tardi per altri scrittori. Devi davvero volerlo. Hai superato il limite. Ti sei cacciata nei guai, eticamente e legalmente. Io non volevo essere ordinaria. Volevo essere straordinaria.